amici di centro del telecomando buongiorno e oggi la riconoscete e la mitica alfa 159 radiocomando riproduzione fatta e così il cliente aveva un solo radiocomando aveva l'ansietà di avere anche la seconda chiave andiamo a provare e quindi solida prova della messa in moto ecco la chiave 159 anche questa volta fratelli barcellona sono riusciti nel loro lavoro ciao a presto